Buongiorno, sono Andrea Damagnini di Crestron Italia, siamo all'ISE, alle nostre spalle il prodotto più significativo presentato da Crestron quest'anno, il nuovo ricevitore con scaler integrato, con capacità di effettuare upscaling e downscaling da qualsiasi risoluzione e a qualsiasi frame rate sia in up che in down. È sicuramente un prodotto innovativo, è l'unico al momento presente sul mercato che permette di effettuare questo tipo di elaborazione e una cosa importantissima è un prodotto che è stato sviluppato utilizzando un chipset non commerciale ma realizzato nei laboratori, nei DM Lab di Crestron International e Crestron US. Quindi un qualche cosa veramente di unico e qui in questo setup potete apprezzare come una qualsiasi sorgente con risoluzione 4K e a qualsiasi frame rate, vedete i classici lettori X10 oppure PC con schede 4K, possono essere distribuiti su display con risoluzione in 4K o a risoluzione in inferiore senza assolutamente perdita di qualità, anzi il chipset vi permette anche di migliorare la qualità di visione. È un qualche cosa veramente unico e siamo veramente orgogliosi di questo nuovo prodotto presentato all'ISE quest'anno. Il ricevitore di MRMC con scaler integrato e DSP si inserisce nella proposta Digital Media che in questa edizione vedete nella sua evoluzione Digital Media 3.0. È il completamento di tutta la soluzione Digital Media che prevede la possibilità di veicolare sorgenti di qualsiasi tipo, analogico, digitale, digitale in 4K, digitale televisivo e anche sorgenti streaming potendo poi distribuire tali segnali audio-video verso qualsiasi destinazione, vicina, a media distanza, soluzioni in rame e in fibra e anche a lunga distanza tramite le schede di streaming che sono disponibili ormai già dall'inizio dell'anno. Quindi una soluzione veramente completa per la distribuzione di segnali provenienti da sorgenti vecchie, nuove e future. Un'altra novità interessante di quest'anno allo stand Crestron è la nuova serie di soluzioni All-in-One. Per soluzioni All-in-One intendiamo dei dispositivi che integrano in un unico chassis processore, matrice audio-video, sistema di microfonia con mixing e amplificazione. Tutto questo corredato da un processore serie 3. La novità sicuramente più innovativa è il prodotto denominato DMPS 4K 150 che ha la peculiarità di integrare anche la distribuzione in 4K mantenendo comunque la compatibilità con i prodotti HD-based E e vantando anche l'occupazione di un solo slot. Quindi una macchina estremamente compatta con cui posso realizzare l'automazione di una piccola media sala riunioni o sala conferenze. È sicuramente un oggetto interessante sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista di programmazione perché è il primo prodotto ad integrare l'AV Framework. Una proposta di Crestron che permette all'installatore di non dover programmare il sistema ma doverlo solo configurare. Quindi sicuramente un concetto estremamente interessante.